Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati e soprattutto buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori che ci seguite ogni giorno in diretta alle 7.30 per sfogliare insieme i giornali, il Carlino, il Corriere ed il Messaggero. Cominciamo dal Santo del Giorno, poi vediamo le previsioni del tempo e subito i giornali. San Pietro Canisio, il sole è sorto alle 7.37 e tramonterà alle 16.33 per quanto riguarda il tempo, oggi non c'è da dire granché, se non di fare attenzione alle foschie o ai locali banchi di nebbia, come sempre nelle ore più fredde della giornata. Le temperature sono in lieve aumento nei valori massimi, anche oggi avremo un cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso, così come nella giornata di domani quando non ci saranno sostanzialmente variazioni rispetto alla giornata odierna. Avremo tempo stabile sulla regione Marche anche per il resto della prossima settimana. Adesso andiamo subito a leggere i giornali perché in primo piano c'è la notizia di quel tragico schianto nel quale ha perso la vita ieri mattina all'alba, erano circa le 6.45 sulla statale adriatica 16 di fronte alla stazione dei treni di Marotta, un giovane di 18 anni che stava rientrando da una serata in discoteca insieme all'amico del cuore. Dunque questa è la notizia principale, in particolare il Corriere Adriatico che è il giornale delle Marche che ha molti lettori nella regione Marche, in particolare Ancona dove il papà di questo ragazzo aveva un'azienda ma anche ha un'azienda e aveva un ruolo importante in una società di calcio, l'Ancona e quindi dedica tre pagine il Corriere Adriatico questa mattina a questa tragica notizia che vediamo qui nella pagina appunto del capoluogo. Schianto muore il figlio di Marinelli, Daniel, 18 anni, era il terzo genito dell'ex patron dell'Ancona, autorizzato l'espianto e racconta Stefano Rispoli del Corriere Adriatico che Daniel si era steso per riposare sui sedili posteriori perché era provato dalla serata trascorsa in discoteca con l'amico del cuore a cui aveva chiesto di guidare la sua Fiat Panda che vedete in questa terribile immagine rovesciata su un fianco. Fuori albeggiava, cominciava a salire il sole, dunque, cominciava a rischiarare, avevano da poco accompagnato a Fano due ragazze conosciute al Mamma Mia e con loro si erano fermati a fare colazione al bar Cecchini. Sulla via del ritorno Daniel Marinelli, anconetano, 18 anni, terzo, come dicevo, dei cinque figli di Andrea, ex patron dell'Ancona, stava dormendo quando purtroppo all'altezza della stazione di Ancona ha perso la vita in un tragico incidente. Qui in questo articolo troverete poi tutto il racconto, vedete questa foto sorridente, spensierata di questo giovane di 18 anni, Daniel, mentre qui lo vedete con la maglia, la maglia dell'Ancona, il club di calcio, la squadra di calcio in cui ha giocato nelle formazioni giovanili, mentre sotto un'altra immagine, immagine dell'incidente, dell'incidente che è avvenuto appunto ieri mattina lungo la statale adriatica. L'altra pagina, sempre su questo drammatico incidente, ecco la pagina dove il padre adriatico racconta i terribili momenti vissuti dal papà, il pianto di Andrea all'ospedale di Torrette, terribile, dice il padre, ho perso un ragazzo d'oro, sorretto dagli amici, sorretto in un momento drammatico, in un momento di dolore lancinante e poi sotto, anzi qui di fianco, ancora una foto del papà Andrea, poi sotto invece qui di fianco l'ex DS Sandro Marcaccio, e poi anche Giovanni Cornacchini che è l'allenatore dell'Ancona Calcio. E poi sempre il Corriere Adriatico pubblica la notizia del dolore anche sugli spalti di due squadre, di due campi di calcio. Il dolore supera gli steccati del tifo, scrive il giornale, presidio dei supporter biancorossi in ospedale, uno striscione di solidarietà anche dagli ultra della Iesina. L'Ancona, la società dell'Ancona Calcio, lo chiamiamo così, ma in realtà si chiama OS Ancona 1905, non aggiorna per rispetto il sito internet e chiude il punto vendita e scrive riposa in pace Daniel. Gli altri quotidiani che cosa scrivono? Gli altri quotidiani, siamo sul messaggero, messaggero di Pesaro, la pagina di Pesaro, naturalmente un richiamo in prima pagina, ma all'interno ecco un'altra foto di questo ragazzo di 18 anni, schianto muore a 18 anni dopo una notte in discoteca. Invece Luigi Benelli del messaggero dice che lato racconta che il lato su cui si è girata la macchina era proprio quello dove era seduto il ragazzo. I vigili del fuoco di Fano sono intervenuti per estrarre Daniel, rimasto intrappolato tra le lamiere. Alla guida della Citroen invece, perché ricordiamo le auto sono tre quelle coinvolte, alcune erano parcheggiate, in altre c'erano dei guidatori che se la sono cavata, ma in una, in realtà pare che le cose si siano, la situazione si sia un po' aggravata nel corso della giornata, almeno così leggevo su uno dei quotidiani, c'era una donna di 58 anni mi pare, insomma si sia un po' aggravata per un ematoma cerebrale, quindi insomma si spera adesso che tutto vada per il meglio. Alla guida della Citroen invece, che ha avuto il frontale con l'auto di Daniel, c'era un poliziotto dei Senigali, il 54 anni, in servizio a Fano, ha tentato di evitare la panna, ma sul lato della strada c'era una Iaris. Anche qui sotto, vedete, altre immagini, altre fotografie, questa particolare è la stessa che abbiamo, infatti lo riporta giustamente anche il messaggero, una di quelle prime fotografie che abbiamo pubblicato ieri sul nostro sito internet, fotografie che arrivavano poi quasi in tempo reale con queste auto rovesciate in mezzo alla strada. E qui c'è il racconto appunto, anche nei dettagli di tutto quello che i colleghi hanno raccolto nella giornata di ieri. L'ultima pagina sempre su questo argomento, poi cambiamo decisamente, andiamo sul resto del Carlino, anche qui due immagini della tragedia, l'alba tragica di Daniel, aveva solo 18 anni, schianto davanti alla stazione, vittima il figlio dell'ex patron dell'Ancona, sapeva di non dover guidare quando si sentiva stanco, dice il padre, era un consiglio che gli avevo dato con il cuore, lui l'ha seguito, era un bravissimo ragazzo, ci rivedremo in paradiso. Allora adesso andiamo subito, cambiamo argomento, andiamo sulle altre pagine del quotidiano bolognese, vediamo subito la pagina di Pesaro Primo Piano. Dalla cassa integrazione al superlavoro, riscuoto, qui c'è il racconto misto tra rabbia e vergogna di un imprenditore, un imprenditore che ha uno calzaturificio, dice riscuoto tra due mesi ma ora mi manca il cash, cioè gli mancano i soldi incontanti. Parla Massimo Martini, non ho i soldi per pagare i miei dipendenti, è una vergogna tagliare le gambe alle imprese in questo modo. Non riesco a guardare in faccia i miei operai, vorrei regalargli un Natale felice ma devo avere 130 mila euro e riscuoto solo tra 60 giorni. Succede a questo 46enne di Macerata Feltria, che tra l'altro è anche un ex consigliere comunale e dal primo aprile socio di un calzaturificio di Riccione, un'azienda con 21 dipendenti. Il racconta insomma, in sostanza, un po' come in tanti, succede che ha tanto lavoro, tutto quanto, però si riscuote, quando si riscuote, troppo tardi. Il Grizzly, la questione del Grizzly al vallato, nella zona dell'aeroporto, il Grizzly occupa e l'ha giunta dall'ok, assegnati ufficialmente i locali di via della colonna. Ci sono degli strascichi penali, in occasione di una festa senza permessi i ragazzi, qualcuno lo ricorderà, sicuramente i ragazzi fecero resistenza con i NAS, che è il nucleo antisofisticazione dei carabinieri, che volevano entrare quella sera per fare dei controlli, ma loro, questi ragazzi che stavano occupando lo stabile, si misero davanti all'ingresso e impedirono appunto di entrare ai militari. A Fossombrono invece un pensionato è stato trovato morto nel cortile, un pensionato di 67 anni, Davio Marinelli, che è stato rinvenuto ieri senza vita nel cortile della sua casa di Fossombrone, in località Ponte Nuovo, vicino al distributore di metano. Poi invece, sempre dal resto del carino, questa immagine invece spensierata, divertente, ieri mattina di tanti Babbi Natale, 688 in realtà, quindi un successo per questa corsa di beneficenza che si svolge tutti gli anni, parte da Barchi e arriva a Piagge, coinvolti i runner, cioè quelli che corrono, quelli che fanno corsa da tutta Italia. Naturalmente era d'obbligo vestirsi da Babbo Natale. Poi c'è lo sport con il derbissimo, quello che si è giocato ieri al Mancini di Fano, l'Alma Juventus Fano contro la Vis Pesaro, due pagine anche qui sul resto del carino di questa mattina, l'Alma Juventus Fano vince 2 a 1 contro la Vis, Ambro e Sivilla vince sempre il Fano, ecco l'altra pagina, dobbiamo andarle ad aprire naturalmente vince sempre Fano, Biancorossi vicino al Pari con Candelori, Ambrosini c'entra un palo e si mangia un altro gol. Finale tutto vissino. Poi ci sono le pagelle che naturalmente anche noi vi proporremo questa sera nel corso del nostro telegiornale. Poi guardate qua Sivilla che si fa un selfie utilizzando niente meno che il bastoncino, quello che ormai si trova ovunque e si utilizza per farsi dei selfie, cioè degli autoscatti. Vedete? Poi tra l'altro questa fotografia ieri ho visto che stava facendo il giro giustamente dei social network, uno scatto carino. Andiamo velocemente sulle altre pagine dei quotidiani. Torniamo sul Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro. Sul mercato di San Decenzio la pace è fatta, abolito il canone in cambio del ritiro del ricorso al TAR. L'imposta unica sarà abbassata del 40%. Mentre la pagina di Fano del Corriere, eccola qua, l'albero ecologico è da manforte ai mercatini. Anche a Fano affluenza record di turisti nell'ambito del programma Il Natale Più della Provincia. L'innovativa opera di Seri e del Signore lanciata sui social dal programma TV alle falde del Chilimangiaro. Pullman di visitatori da nord a sud hanno vivacizzato il mese di dicembre, finora scarso di interesse. Poi le foto di Fano di ieri e di oggi saranno proiettate sul maxischermo durante la festa di Capodanno che si terrà in piazza a 20 settembre. Le immagini saranno selezionate anche in base agli apprezzamenti e votate in piazza con l'applausometro. Al via tramite Facebook il concorso fotografico che assegnerà tre premi nella festa appunto del 31 di dicembre. Un atto di amore per la città ed il suo territorio. Tra l'altro Fano TV è partner ufficiale di questa festa di Capodanno, quindi è media partner ufficiale di questo evento che come sempre richiama tante persone per festeggiare e salutare l'anno nuovo. Sempre dal Corriere Adriatico, la pagina di Fano, rifiuti raccolta differenziata al 72,78%, il comune è primo in Italia tra quelli medi. Aset a metà 2016 aprirà una seconda piattaforma a Calcinelli. Poi Sara Bracci al Santa Croce ma è ancora in coma. Il trasferimento dall'ospedale regionale è tornata a Fano. Sara Bracci ma non si è ancora svegliata dal coma. La 38enne è rimasta vittima di un terribile incidente stradale lo scorso 9 dicembre sulla strada provinciale a Cagli. Sara ha lasciato il suo letto di ospedale a Torretti di Ancona per essere ricoverata nel reparto di rianimazione del Santa Croce. Secondo i medici, questa è la buonissima notizia, la giovane fanese non sarebbe più in pericolo di vita. Ci fermiamo qui. Ci sono altre notizie ma più o meno conosciamo già altre notizie sulle pagine dei quotidiani. Naturalmente non sono soltanto quelle che leggiamo nella nostra rassegna stampa. I quotidiani sono pieni di tante notizie, di tante pagine. Quindi vi invitiamo ad acquistare la vostra copia in edicola. Noi invece ci fermiamo qui. Vi do appuntamento domani mattina come sempre alle 7.30. Arrivederci. Grazie a tutti.